Allora ragazzi è uscito il nuovo aggiornamento su Adopt Me e io lo voglio proprio vedere Allora questo ragazzi intanto piove, è il nuovo clima su Adopt Me E in questo video vi dirò come vincere una banana Perché ve la regalerò, perché costa 199 robux e non tutti hanno la necessità che la possono comprare Quindi intanto scriviamoci in giapponese che non c'entra niente Ma vabbè, ho ottenuto questi bugs per prendere anche il nuovo pet Che penso che costa, tipo 700, penso 500 di più Sì, 500 perché ho visto ieri il video su Adopt Me Quindi facciamo queste missioni Ok, ho preso 10 bugs, oddio E dunque facciamo la missione della doccia, questa è l'ultima Speriamo che esce un leggendario di 1000 bugs Speriamo che esce un leggendario Leggendario, cioè guardate, ho 1000 bugs 1000 bugs Non ho mai avuto così tanti Cioè sì, se ho scelto stivano sì Non è che ne è co? No ragazzi Un leggendario, il baco Ciao roba Ma mi date fortuna voi? Io penso di sì Perché ragazzi Mi esce sempre il dudong Lo scorso video abbiamo trovato il manichineco Cioè ma come si fa? Troppo fortunati siamo Vabbè, piove questo clima Piove Quante volte è ripetuto piove E vabbè Aspetta Noi, ah Prendiamo il nostro pandino Prendiamo il nostro pandino Ok Che l'ho riottenuto? Che bello Mi piace il panda Vabbè E nuota E... Allora No Non voglio fare scambi In questo video Cioè vorrei scambiare i nuovi pet E voglio vedere che cosa Offrono le persone Allora Pop pop Cioè non in questo video Nel prossimo Oddio che bello Sto bello I pet dragon Viola In quel stile Ok Allora saliamo Saliamo Vediamo le nostre banane Bananine Bananine Allora Entriamo qua dentro Qua ci sarà lo shop Io penso di sì Ah ecco Qua possiamo prendere L'acqua Allora L'ocello L'otto 500 Oddio Le possiamo prendere due Figo Grazie mio Eh Possiamo prendere due È raro Guardiamo Carino Lo guardiamo Nean E come si chiama? Ocelot Ocelot Ecco Vediamo Vediamo Nean Si potrebbe fare Perché è rosso Parla Vabbè Poi un platano Ah un platano Si chiama un platano Vabbè Allora Le banane Le banane Dove si comprano Le banane Ah vabbè Si compra qua Compriamo Tre banane Tre banane No Quattro Perché una È nel giveaway E nel giveaway Sì Due Tre Tre Ok Ok E un altro Perché una È del giveaway Ok Ok Finito Tutti Ovviamente Allora Una Ce la diamo Già Dai Leggendario Leggendario Dai 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 Oddio Che cosa ho trovato Ultra raro Green Amazon Allora Prendiamo Un altro Cibo Che è Leggendario Quindi Dai 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 Che cosa ho preso Ah un altro Green Amazon Green Amazon Anzi Anzi Che Dai 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 Diamond Diamond Oh ma un altro Green Amazon Ma quanti Green Amazon Ho Troppi Vabbè Io chiudo gli occhi Basta Io chiudo gli occhi Chiudo gli occhi No 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 Raga Allora Io Allora Ci sarà Ci saranno Due vincitori Allora Uno vincerà Il Green Amazon E un altro No No Due Vinceranno Questo Green Amazon E vi dico Le istruzioni Che dovete fare Allora Scrivere Nei commenti Immediatamente O sulla chat Dal video Sì Allora Scrivere Uccello Verde Poi Il vostro Username Cioè Il vostro Nome Di Roblox E Il Il giveaway Sarà Lunedì E martedì Martedì Pomeriggio Verso le 16 Vi dirò I vincitori Del giveaway Quindi Ragazzi Intanto Anzi No Uno Un vincitore Un vincitore Si sarà Vorrei Scambiare Un po' Questo qua Allora Vole a fare Allora Trade Green Amazon Ragazzi Sono molto felice Perché abbiamo Trovato Almeno Un leggendario Trade Green Amazon Avete Offerte E che cosa hai Ah il Cheak Ma il Cheak Non ve lo darò Manco Per sogno Sì Vabbè Lascialotto Ma Sei C'è La C'è La E ragazzi Chi sarà Sì Un vincitore Che vincere A questo Green Amazon Comunque Sono stato Molto fortunato Perché almeno Un leggendario L'abbiamo Trovato Io Sono molto Contento Ok Dobbiamo Uscire Se si leva Il signore Per favore Ok Ci le trasportiamo Al centro E li scambiamo Vero Sì Aspetta E Questo White Il White Penso Che Boh No Anzi No Scambiamo Nel prossimo Video E Cambiamo Nel prossimo Video Vero Allora Quindi Allora Ragazzi Io Cioè Ho scritto Sto Japan Egg Ho trovato Il Baku Ho trovato Il Baku Troppo Ma troppo Troppo Bello Poi Due Acelotto Che avevo 1000 bucks E li ho presi Tre Questi qua Che non è che Mi è andato molto Però Oltre a Laro Dai Carino E uno Di questi A White Amazon Che Sono Un po' Rari Penso Perché Sono Leggendari Al prossimo Video Grazie Papa